salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di informat faremo molte singole numerose partite innanzitutto vi dico subito che i video gaming ogni tanto usciranno ce sarà qualcuno e che questo qua lo volevo fare principalmente perché anzitutto volevo provare il nuovo microfono il toner microfono nuovo se non lo provi non sei nessuno ma non solo perché mi mancava un sacco questo fatto di registrare la sera tardi con fortnite ma in generale facevo anche altro non per forza fornit però minecraft praticamente era dedicato solo alla serie quella la vita in città che non so se tornerà devo vedere un po perché lorenzo non può più abbonamento per problemi privati ma non voglio dire che sono anche se sono stupidaggini non vorrei dire non so mai sono cose private meglio di no oggi faremo una singola e vediamo un po come ce la capiamo dato che comunque io a fornit non è che sono più bravo di questo mondo diciamo me la cavo abbastanza ma non sono il più bravo di questo punto allora queste fornit ragazzi io non so questo microfono se riprende parecchio l'audio cioè riesce a silenziare ma non credo tutti i rumori del mouse o della tastiera dubito nel caso fosse così meno male allora questa è la mappa ragazzi una mappa molto semplice niente di che non hanno messo quasi quasi niente di nuovo devo dirvi io ho riscontrato non mi ricordo quando forse voi lo arrabbiate non c'era più un pelino il problema del crash non so perché certe volte all'improvviso in questa fase dove scendevo infatti ho paura che succede ti bloccava un certo punto tutto il programma non rispondeva più e crashava speriamo che oggi non fa la stessa fine però in teoria quando scendo non crascia più perché il momento più complicato da caricare in generale di tutto sia texture che tutto è il momento del caricamento ecco già partiamo male perfetto questa è la prima partenza ottimo mamma mia oh ma ti è diventato ansioso sto gioco da una mille non c'è un niente di vita ti prego ah dai dai non male non male non male non male non male dai siamo ancora in carreggiata più o meno per come inizio non è malissimo si può fare meglio chi sa il microfono com'è secondo me è buono eh perché poi un mio amico che è quello la che avete visto quando all'inizio video saluto tempo fa in un video del della sfida tra i due computer quello di aziendale di mio padre quello la mio classico ehm aveva salutato all'inizio video lui mi ha consigliato di metterlo verticale perché questo è un microfono non lo so il nome e non lo voglio sapere no è una scherza lo vorrei sapere però non me lo ricordo c'è uno qua oh scudini codo questi mica sono male 125 di vita oh madonna ma dove sarebbe di preciso questo oddio ma non c'è niente oh oh ora sto no 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 sta sparando a casa non ci credo no 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 eh no eh eh no vabbè ma questo è già arrivato ma che è ah vabbè questo è un problema ho capito vuoi fare una parte un po' tranquilla non vuoi andare in quelle città dove appena cadi muori tra l'altro si avvicina man mano tutto siamo a 8 aprile 2021 oh oh no ma ragazzi sono rotto e No questo cosa non è male però A questo punto piglio il pompa Questo me lo tengo Non sapevo cos'era Sarà una delle solite stupitaggine Invece invece no Carichiamolo Non so se farmeli Ragazzi Facciamo una cosa Fidatevi di me Tanto sta sedia fa un bordello C'è una cosa assurda C'è uno c'è uno l'a Sa che c'ha l'arco Si c'ha l'arco Si avve E' forte Perché venga a trovare gen genormale Ma c'ha miseria Ragazzi questo breve video termina qua Mi sono scocciato già Perché ho detto Vabbè il suo gioco sarà migliorato No Assolutamente no Va bene No ci vediamo domani Con un prossimo video Sempre tra le 16 e le 17 O prima Non lo so